Siete in compagnia di SPS Italian. Provate altre storie su sps.com.au barra italian o scaricate la SPS Radio App. Slow Italian. Fast learning. Italia! 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 I tifosi italo-australiani di calcio a Melbourne stanno festeggiando come se si fosse ritornati ancora alla Coppa del Mondo del 2006. Questa volta stanno celebrando un'altra vittoria ad un torneo importante. Campioni del posticipato campionato Euro 2020. Ciao mamma! I love Italy! I love Italy! I love Italy! Il finale mozzafiato ha visto i tifosi abbarbicati su ogni sedia di ogni caffè e ristorante nella celebre Ligon Street di Melbourne. Questo angolo nella zona dedicata al cibo della città, conosciuta con affetto come la Little Italy di Melbourne, è esploso di gioia, rumore e colore. Ciao mamma! Sono stati testimoni della storia. Dopo aver visto i loro eroi del calcio, vincere il titolo a seguito di una sequenza di rigori epica. La partita stessa ha rispettato un copione che non avrebbe mai potuto essere scritto, riempito di scene drammatiche. La serata era iniziata benissimo per l'Inghilterra, allo stadio di Wembley. Con l'inglese Luke Shaw che ha segnato il gol più veloce ad una finale degli europei, dopo un minuto e 56 secondi. Il punteggio alla fine del primo tempo era di 1 a 0. Nel secondo tempo, Leonardo Bonucci ha pareggiato su calcio d'angolo. Dopo i tempi regolamentari, il risultato era di 1 a 1. Nessuna squadra è riuscita a realizzare il gol decisivo nei tempi supplementari, per cui questo finale teso si è deciso ai calci di rigore. Il portiere italiano Gianluigi Donnarumma è diventato l'eroe, facendo la parata decisiva che ha consegnato all'Italia il primo titolo di campione d'Europa dal 1968. Il portiere è stato poi nominato miglior giocatore del torneo. I festeggiamenti in Italia e nella città capitale Roma andranno avanti per giorni. E' incredibile! E' incredibile! E' incredibile! E' incredibile! Non si sente meglio di questo! E' incredibile! Abbiamo vissato la finalità! Siamo campioni del mondo dopo tutti questi anni di Covid, finalmente! Sono molto felice! Siamo i campioni euro! E' un'euro! 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 sostenere i propri paesi, l'attenzione ora si sposta sui giochi olimpici di Tokyo, che iniziano a fine mese, e sulla Coppa del Mondo in Qatar dell'anno prossimo. Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SPS Italian su Facebook.